PF, è già automatica la scala? Si La zeramento glielo devi fare e lo farò solo In PF Auto zero, come funziona? Ok Un saluto, no qua qua Un saluto agli amici del forum Abbiamo l'onore di avere Erbezio Franco in laboratorio L'ho messo subito a lavorare Mi sta facendo lavorare Erbezio Franco all'opera No Erbezio, non era meglio che andavi a male oggi? No, 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 io cambio volentieri Non mi piace Se vuole commentare Erbezio Ne avremmo fatte centinaia di queste riparazioni Qui c'era l'amico Il solito Il secondo televisore Seconda riparazione Erbezio, salire possiamo mangiare Per dire quelle cose Prendeva andare da un'altra parte Esattamente 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 Come queste pennette Come le portiamo Le gambe Le gambe Me lo sono tirato fuori a porta Questo Erbezio Arriviamo la mumbia Vogliamo La mumbia La sorpresa Arriviamo la mumbia La mumbia Eccola Eccola Vediamo come si beve Vediamo se dice Come si beve Eccola Ma allora Hai potuto far filmare Brick de Bacchia De Cagliari Ma questo è il labio Che dobbiamo filmare Prima di berla Ecco qua Sembici E' bello C'è le cilieze E' bello Ma voi al loro non le avete mai mangiate Le cilieze Lo stiglio E' bello E' bello Stanno qua Stanno qua Allora Allora Viviamo un po' Una boccia o due Una boccia sola Questa va bene Qua Più buona Questa 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 Mi sembra Una marca di preservazione No 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 Di più Un bichiere di crù Grazie Non dormiamo È un recensione di massaggiare Massaggiamo questo qua Mia Che è quello Era un gatto E' fatta Il progetto 6 euro di grappa Non lo pare No Non lo fare Vento 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 Rimassaggiando E' No Me lo fatti tu No No Quella D' E' Esperta Eh Vento Vento Vento